Amo disegnare un costume per un personaggio, cioè descrivere un personaggio, aiutare un attore a diventare personaggio. Prima di tutto la testa, perché il cinema è fatto di primi piani, è un oblò che arriva sul platea. Quindi chiarire che faccia ha quel personaggio e quindi che pettinatura e poi chiedersi che passato e che presente ha quel personaggio. Claudia aveva una fisicità straordinaria, era una donna esile ma rotonda, fatta di carne. Quindi la potevi manipolare, plasmare come una specie di decreta. Mettevi il busto e diventava una cosa, prendeva proprio un aspetto che volevi. Un'attrice fatta di ossa non la puoi modificare, la devi chiamare il falegname, ma questo non è possibile. Mette una persona di carne e la puoi plasmare. Il dettaglio sembra una roba di pignoleria, ma il dettaglio è quello che dà la vita alle cose. Quel quid che a me io ho sempre cercato. Umberto era una specie di fuoco d'artificio, era a volte anche faticoso entrare nell'ingranaggio di Umberto. Però certo il lavoro scorreva, il lavoro era fatto di entusiasmo, occorrevano delle cose. Bene, si parte, si va a Parigi, si va al mercato delle pulce. Insomma quella cosa fu proprio una flebo di vitalità.